Assessore Mascia, cantieri Lumaca, alcuni cantieri fermi, città un po' paralizzata dai lavori. Lei ha chiesto un'accelerazione anche ai tecnici del Comune. Spieghiamo che voi avete ereditato molte opere dalla precedente amministrazione. Io sono intervenuto energicamente in questi giorni perché non è lecito che la città tolleri i rallentamenti nei lavori. Ci sono tanti lavori in corso che, come ha detto lei bene, sono stati ereditati dalla precedente esperienza governativa. Sono lavori che comunque portano beneficio alla città ma non devono portare assolutamente disagi alla città. Quindi devono marciare regolarmente, devono marciare speditamente. Ieri ho tenuto varie riunioni, da oggi sono a pieno regime cantieri strategici. Ne cito alcuni, quello di Via del Santuario, quello di Via Rigopiano, per intenderci la rotatoria in fondo a Via Paolini. Ma stanno riprendendo tutti i lavori, via Caduti per Servizio, in Via Tavo, in Via Rubicone, con un'attenzione particolare anche da parte dei responsabili unici del procedimento, che sono le nostre sentinelle sul territorio. Sono i dipendenti comunali che hanno il compito di vigilare su questi lavori. Dai lavori a Corso Vittorio Emanuele, qualche settimana fa lei aveva parlato di una riflessione dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la via più importante della città. A che punto è questa riflessione? La riflessione è condizionata da un incontro importante che avremo a breve con i vertici di TUA, che devono ancora fissare una data per farci comprendere soprattutto qual è il destino del BRT. BRT è il mezzo di cui si parla da tanti anni che deve collegare Montesilvano con la parte più a sud della città di Pescara. Riteniamo quel mezzo strategico anche ai fini di Corso Vittorio Emanuele, perché la possibilità di dare ai cittadini pescaresi un mezzo di una metropolitana leggera che comunque possa trasportare un numero notevole di persone va ad alleggerire anche il traffico urbano.